La raccolta differenziata fa bene se la fai bene. Il primo passo per salvaguardare l'ambiente e la natura dipende da ognuno di noi. Se ognuno di noi effettua una corretta divisione e separazione dei propri rifiuti, in casa, riciclare i materiali diventa molto più semplice ed efficace. Fai la differenza. Un mondo migliore comincia da te.